Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vedremo insieme la seconda maglia dell'Ajax per la stagione 22-23 in versione player. La maglia da calcio away, adidas, Ajax 2022-23 e blue navi con loghi rosso-oro e tre stripes. I loghi adidas e ziggo sul fronte della maglia sono giallo-oro mentre le tre stripes sulle spalle sono rosse. Lo stesso sistema dell'Ajax è diviso tra i due colori, giallo per lo stemma e rosso per le stelle. La parte anteriore della maglia è semplice. La caratteristica distintiva è il colletto che presenta un motivo geometrico in maglia sempre in rosso e giallo. Lo stesso motivo compare anche sui polsini delle maniche. Uno speciale simbolo con la bandiera di Amsterdam dai toni blu è posizionato in basso a destra. La maglia Authentic è la versione indossata in campo dalla squadra. La vestibilità, più aderente rispetto alla versione fan, è progettata per il fisico dell'atleta. Avevo già visto questa maglia in versione fan, trovate qui in altro la recensione, ho deciso di riprendere la in versione player perché secondo me è strepitosa. Nella mia classifica prende 5 stelle. Adoro i colori, adoro queste rifiniture in oro. Veramente veramente una maglia bellissima. Qui in alto vedete il costo bassissimo per una versione player fatta così bene. Vi ricordo peraltro che in descrizione qua in basso trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia e trovate anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete poi spendere e utilizzare sul sito per comprare quello che volete. Ora vi lascio alla parte finale in cui vedrete la vestibilità e le misure, quindi continuate a guardare il video. Nel frattempo se il video vi è piaciuto vi prego di regalarmi un like e di iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ciao! Io sono alto un metro e 75 e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player. Grazie a tutti!